Gliere intanto hai smaltito l'importante? Sì, ho fatto martedì, ho fatto un lavoro un po' così a parte, poi ho fatto le terapie, tutto sommato va bene dai. Arriva un'altra campana sul vostro cammino, tutto con le campane di esalti. Speriamo di ripeterci, sarebbe un bene per tutti quanti. Avellino è una partita comunque difficile, se in casa l'avellino è un po' stenta talvolta. Sì, sicuramente sarà una partita dura, ma come lo è per noi, lo sarà pure per loro, perché sono sicuro che gli daremo più da torcere. Cos'è cambiato in Michele e Mauso in questi ultimi giorni di campionato? Io ho sempre lavorato, ho sempre preferito rispondere alle critiche lavorando duro e dando le risposte in campo. Ecco, il miglior Michele e Mauso l'abbiamo già visto o ancora dobbiamo vedere? Posso fare molto di più. Grazie. 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 Grazie.